pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati con la domenica delle palme inizia la settimana santa centro e cuore di tutto l'anno liturgico dal testo della passione secondo marco cogliamo un versetto che ne è culmine nonché chiave di lettura per tutto il vangelo e la professione di fede del centurione che vedendo gesù spirare in quel modo disse davvero quest'uomo era figlio di dio marco vuol dirci che proprio attraverso la passione morte di gesù possiamo capire che lui è davvero dio il figlio di dio perché vediamo un po ciò che avviene ai piedi della croce cosa fa gesù in croce e cosa pensiamo noi della croce gesù è stato ingiustamente condannato percosso e umiliato e ora è inchiodato alla croce marco ci dice che i passanti lo bestemmiavano dicendo beh tu che distruggi il tempio lo edifichi in tre giorni salva te stesso e scendi dalla croce salva te stesso ecco il nostro problema salvare noi stessi vivere per noi stessi tirare al nostro detto altrimenti non riuscire ad amare fino in fondo anche noi come questi passanti ci aspetteremo in fondo un dio così che tutto sommato legittimi il nostro egoismo un dio che vince dominando piuttosto che amando un dio senza croce che si auto afferma che davanti alle cose ingiuste o che non rientrano nei nostri parametri ad un certo punto interviene con forza anche a noi sta stretta l'immagine di un dio che non interviene dall'alto per stravolgere le situazioni per le quali basterebbe un piccolo taglio alla regola dell'autonomia della creazione sì anche noi ci aspetteremo un dio così che in fondo non prenda sul serio la nostra libertà che non scommetta davvero su ciascuno di noi in fondo che non ci ami sino alla fine invece proprio per questo gesù si sta manifestando come dio perché resta lì ci ama sin lì ma non ci sono solo i passanti vi sono anche i religiosi praticanti i sommi sacerdoti che lo schernivano con gli scribi dicendo ha salvato altri non può salvare se stesso il cristo il re di israele scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo pensate che tentazione forte per gesù se lui scendesse dalla croce gli crederebbero se lui facesse ciò che gli altri si aspettano otterrebbe la loro fiducia chissà se c'è mai capitato di legare la nostra fiducia al signore al fatto che le cose andassero come dicevamo noi della serie signore se tu mi fai questa cosa ti prometto che io farò quest'altra per carità a volte lo facciamo in buona fede ma il punto qual è chiedere che dio faccia ciò che diciamo noi che lui in un certo modo difenda la propria immagine e manifesti la sua divinità la sua forza facendo quello che gli altri si aspettano ma miei cari se lui scendesse dalla croce e magari ci mettesse chi se lo merita in fondo siamo tutti noi non sarebbe il re di israele che libera ma sarebbe il crocifissore di tutta l'umanità i religiosi riconoscono in gesù che altri sono stati salvati guariti rimessi in piedi e allora gli dicono ma se tu sei il re usa la forza salvati c'è forse qualcosa che vale più della vita c'è forse qualcosa più forte della morte per la scrittura l'esperienza dell'amore la vita biologica è inghiottita dalla morte ma la morte è stata vinta dall'amore di colui che si sacrifica per l'uomo in fondo miei cari come ha detto bene padre fausti se lui non fosse entrato nella morte questa sarebbe rimasta per noi la minaccia suprema ma se lui è presente anche nella nostra morte essa allora non è più separazione bensì comunione con la sorgente della vita ecco perché gesù si sta manifestando come dio perché rimane lì ci ama sin lì entrando e vincendo ciò che a noi più spaventa ma non ci sono solo i passanti e teologi ci sono anche quelli crocifissi con lui e anche loro lo insultavano chi sono coloro che soffrono giustamente o no coloro che sono alle prese con le loro croci in fondo ci siamo tutti noi che nell'ora della prova ci rivolgiamo al signore dicendogli ma se ci sei toglimi di qui se mi ami risolvimi questo problema miei cari sono grida che esprimono anche una preghiera una ricerca ma che a volte diventano anche rabbioso insulto se non bestemmia ma se gesù scendesse dalla croce se gesù avesse dribblato le sofferenze più dolorose che valore avrebbero le nostre che senso avrebbero le nostre e dio dove sarebbe in quel momento gesù invece rimane lì ci ama sin lì per dirci che anche nelle nostre croci anche nelle nostre sofferenze lui non è assente ma è presente e porta il peso con noi condivide quella croce con noi trasformandola se ci affidiamo a lui in strada di salvezza ora miei cari questo è ciò che accade ai piedi della croce ma sulla croce gesù cosa fa vangelo ci dice che quando fu l'ora sesta si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona e gesù gridò a gran voce dio mio dio mio perché mi hai abbandonato cioè gesù cosa fa innanzitutto prega le parole pronunciate fanno parte del salmo 22 cioè gesù risponde al male pregando e continuando a donarsi anche per chi lo sta insultando non solo qui c'è il grido di tutta l'umanità che ha abbandonato dio e di tutta l'umanità che si sente abbandonata da dio spiego in primis qui c'è il grido di tutta l'umanità che ha abbandonato dio vedete molti in questo momento lo hanno abbandonato molti fanno a meno di lui noi lo abbandoniamo ogni qual volta scegliamo il male ma noi quando lo abbandoniamo non sentiamo il dolore dell'abbandono lo sente lui che ci ama spiego meglio se tu ami qualcuno può essere tuo figlio la moglie una persona a te cara e questa persona ti abbandona l'abbandono lo senti tu che la ami così è dio gesù sta sentendo sta portando su di sé il peso della lontananza di tutte le lontananze degli uomini da dio siamo qui davanti a un aspetto profondissimo della sofferenza di gesù altri possono aver sofferto torture e martiri più strazianti del suo ma questo abisso di dolore lo porta solamente gesù e poi qui c'è il grido di tutta l'umanità che si sente abbandonata da dio il figlio di dio che è uno col padre sente l'abbandono del padre sperimenta il male assoluto la distanza assoluta gesù scende nel punto più basso sperimenta la lontananza più estrema dal padre per ricondurci tutti a lui perché nessuno si sappia abbandonato mi cari in questo grido trovano voce tutte le nostre sofferenze tutti i nostri vuoti qui nella croce trova senso tutto il non senso della sofferenza umana in questo grido ci sono anche le tue grida ci sono i tuoi dolori ci sono tutti i momenti in cui non sperimenti la vicinanza di dio che puoi anche non sentire ma sulla croce ti rivela che lui non ti molla neanche lì gesù sperimenta l'abbandono di dio ma questo abbandono risponde pregando cioè continuando a fidarsi del padre ricordandoci così che anche se non lo senti anche se sperimenti il dio silente lui non è mai assente e puoi rispondere a quel non sentirlo affidandoti tra le sue braccia in quelle braccia capaci di accogliere e raccogliere ogni tua sofferenza ecco perché don tonino bello passando tra gli ammalati e fermandosi da uno in particolare ad un certo punto staccò il crocifisso di legno che era appeso sulla testiera del letto e facendolo vedere al malato gli mostrò prima la parte dove c'era la statuina del corpo di gesù e gli disse vedi amico caro qui c'è gesù poi giro la croce e qui dietro c'è un posto vuoto in questo momento gesù sta chiedendo a te di salire su questa croce ma ricorda se ti fidi e ti affidi lui non è lontano e rigirando il crocifisso è qui con te accanto a te che soffre in te e per te in conclusione miei cari gesù è messo un grido spirò e il centurione romano che stava davanti a lui vedendolo spirare in questo modo disse veramente quest'uomo era figlio di dio è proprio qui che marco vuol condurre tutti noi attraverso il vangelo a contemplare il crocifisso a riconoscere in lui un amore più grande l'amore di chi si consegna per la salvezza dei suoi amati l'amore di colui che si è fidato sino alla fine del padre cari fratelli e sorelle in questa settimana santa soffermiamoci sulla passione del signore lasciamo che il collirio del suo amore risani gli occhi del nostro cuore perché sapendoci e sentendoci amati la nostra vita possa rifiorire e imparando ad amare ogni giorno un po di più possiamo aiutare a far fiorire anche la vita di chi ci sta accanto che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti